E bentornati, facciamo i soldi con i rapper, poi dividiamo con i comacrose, 8 e 31 minuti, qui con noi l'ospite di giornata, Walter Chirubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti. Allora, Walter Chirubini, ricordiamo, consulta periferie Milano, quest'oggi, anticipavamo prima del blocco precedente, Walter, parleremo un po' del caro Affiti, del caro Casio, ma soprattutto visto dal punto di vista degli universitari, perché cosa è successo questa settimana? Ma diciamo, per certi aspetti niente di nuovo, perché andando a vedere un pochettino i quotidiani di un anno fa, in questo periodo qui, riportavano le notizie del caro Affiti, caro Affiti per gli studenti universitari fuorisede, che a Milano sono circa 80.000, quindi un numero molto significativo, che tutti gli anni cercano un tetto. I prezzi sono piuttosto elevati, Milano è la città con i prezzi di affitto più cari, siamo sull'ordine di 650 euro per una stanza o un posto letto. La domanda che ci dobbiamo porre è, ma Milano ha questi spazi? In secondo luogo, per quanto ci riguarda da un'ottica periferica, abbiamo questi 220.000 universitari distribuiti tra università e accademie, noi abbiamo circa 25 realtà. 220.000 sono tantissime? 220.000 sono enormi, tenuto conto che noi abbiamo 1.400.000 residenti, siamo 1.400.000 residenti, e quindi complessivamente tra i fuorisede, i cittadini e quelli che invece fanno i pendolari dalla provincia, diciamo così, abbiamo un'enorme energia che ci dobbiamo porre. Ma le università abitano la città? Perché che Milano sia una città piena di università e accademie. Vengono anche dall'esterno, anche l'Accademia delle Belle Arti di Cuneo è venuta a Milano. Anche perché, insomma, 220.000 studenti fanno di Milano veramente forse la città universitaria per eccellenza, perché adesso Perugia, prendendo Perugia, che è spesso città universitaria, ma forse arriva 220.000, non ci arriva neanche 220.000 abitanti con tutti quelli che capitano alla Perugia. Quindi capisci che diventa veramente una città nella città, una popolazione, un popolo quasi, come fossero gli unni. Ecco, questo è il tema però, se le università sono parte della città. Perché noi sicuramente dobbiamo distinguere due concetti che non sono tanto parenti, perché c'è una Milano attrattiva e quindi tutti arrivano a Milano perché è la città delle opportunità, poi vediamo chi ce la fa anche o non ce la fa. Nello stesso tempo abbiamo invece una Milano abitativa, una Milano abitativa che è sparsa su tutto il territorio, in particolare su quello periferico, con i suoi circa 850.000 residenti. E però qual è l'osmosi, qual è il connubio, questi 80.000 universitari che vengono dall'estero e anche dalle altre regioni italiane. E qui che tipo di accoglienza, che tipo di ambito trovano? Questo e che tipo di relazione si costruisce anche? Ecco, allora, guardandola dal punto di vista periferico, il problema per noi non è tanto dare un tetto. Questo sicuramente è uno dei temi, ma è come queste ricchezze possono aiutare la città a dispiegare le proprie vite. Una città che si sta consolidando anche con una popolazione abbastanza anziana e quindi si creano anche degli squilibri. Allora, questo secondo noi è il punto di partenza e, rammentando un po' quello che diceva Renzo Piano qualche tempo fa, la periferia è la città che sarà o non sarà. Ah, oltre che il tetto anche poi. No, questa è un pochettino la sfida. E allora bisogna guardare con una modalità diversa, ma ne parleremo. Infatti, perché questo è il punto di partenza. Allora adesso ci ascoltiamo un brano e poi vediamo invece quale potrebbe essere il punto d'arrivo, con anche le proposte appunto di consulta periferie. Milano. Mona Lisa, Dominic Fike o Fic, come stava? Non lo so, Dominic Fic, Dominic Fic, Dominic Fic. Questa arriva da Spider-Man, niente, non c'entra nulla. Spider-Man è laureato, sì, Spider-Man è laureato. Non fa l'università, secondo me. È già laureato? Non lo so, sì. Ma non si sono conosciuti. Sì, si sono conosciuti. Non mi ricordo. Si sono sull'università. Ne ho visti da picco. Si sono sull'università. Credo che Dragno proprio lo morse in un laboratorio universitario, credo, se non sbaglio. Chissà che magari qualcuno, anche qui a Milano, venga mosso da un ragno che gli crei una casa, perché poi è questo il problema. Walter, diciamo appunto, il problema è 220.000. Ci sono cosconvolta questo numero. 220.000 studenti che arrivano giù come gli uni della nostra città e non danno dove andare, però. O meglio, non è vero. Se hai 1.000 e pasta euro in tasca vai dove vuoi. Se no, 600, 700 euro per una stanza, dicevi. Cioè, cose... Ma ci potrebbero essere delle soluzioni. Allora, noi guardiamo chiaramente il tema dell'abitare la città e in particolare della condizione delle periferie. Quindi è un approccio, è una modalità diversa di guardare ai problemi. Partiamo dal dato dell'abitare. Quindi uno dei punti di partenza è proprio questo, che Milano non conosce Milano. Non conoscendo Milano, molto spesso non si conoscono a fondo i problemi, ma non si conoscono anche le risorse che ha. Noi partiamo da un dato dell'abitare tetto, allora la proprietà pubblica, cioè la nostra proprietà. Noi, Milano, quanti abitazioni abbiamo? Le cosiddette case popolari. E non lo sappiamo. Che sono? No, più o meno. No, diciamo che i numeri ormai si cominciano a sapere anche abbastanza precisamente. Sicuramente i cittadini i numeri non lo sanno. Quindi hanno un patrimonio i cittadini di cui non sono consapevoli. E questa non consapevolezza che cosa porta? Che nel corso degli anni noi siamo andati a creare una serie di quartieri che sono cosiddetti problematici. Non sto a elencarli perché ogni tanto si sente dalla cronaca nera e così via. Ma all'interno di questi quartieri, al di là della cronaca nera, abbiamo tantissimi spazi perché uno dei punti è quello della rigenerazione socioabitativa. abbiamo costruito un decalogo dalle periferie per ripartire, dove uno dei punti è esattamente l'approccio che dobbiamo avere su il tema delle case popolari, che non possono essere la convergenza di tutte le problematiche. Perché altrimenti, se uno è anziano e non sta bene, va nelle case popolari. Non ha lavoro, va nelle case popolari. Ha dei problemi psichici, va nelle case popolari. Ha delle disabilità, va nelle case popolari. Noi facciamo un concentrato di emergenze. E che città volete che sia, o che quartiere volete che sia? Un quartiere pieno di emergenze. In più, se ci sono anche un non controllo, e quindi ci sono i prepotenti, chiamiamoli così, e i violenti, perché questa è la situazione reale, come tutti quanti sappiamo all'incirca, capite che sta male chi sta dentro, e fa quello che vuole qualcuno che è prepotente, che dovrebbe stare forse dentro qualche altra parte. E le soluzioni poi ci sono? Quale potrebbero essere? Allora, il risultato di questa situazione è che noi abbiamo un patrimonio abitativo tra Comune e Aler. Comune è gestito da MMSPA e Regione è gestito da Aler, di un totale di 62.500 appartamenti. Di questi 62.500 appartamenti, adesso do dei numeri macro, noi ne abbiamo qualcosa come 16.500 che non sono utilizzati, per tanti motivi. E' un sesto, credo, no, giusto? Più o meno. E' un numero enorme. 60.000, 16.000. Perché noi abbiamo 34.500 di Aler abitati, 24.500. 28.000 del Comune, 21.500 abitati. Quindi questa è la situazione, con un complessivo di, un po' più di 500 occupazioni abusive al Comune, circa 3.000 dell'Aler. Ti dico, al 3317853555 ci scrive Katia, che ci dice, Buongiorno, voce del mattino. Milano è piena di risorse mal sfruttate, dice. Il patrimonio è stato svenduto, è sempre più diffuso il gettare tutto in un calderone, e in pochi possono permettersi poi di vivere nella Milano bene, nemmeno più quelli che avevano poi diritto, a quanto pare, poi è anche un punto che è piaciuto il problema anche delle case popolari, di chi poi ne ha diritto, ma non riesce ad avere. Insomma, qui è un altro tema, anche quello che apre. Grazie Katia per il messaggio. Allora, il tema secondo noi è questo, cioè noi abbiamo un patrimonio che per mille motivi, adesso non è un interno sindacare, è vuoto, non è utilizzato, è una risorsa vuota. Quindi quando uno dice, e questa risorsa vuota potrebbe essere invece uno dei volani della rigenerazione socioabitativa, ma la rigenerazione socioabitativa che avevamo pensato nel 2012 per un contatto che avevamo avuto con l'Aler, in particolare del quartiere San Siro, ci sono tutta una serie a Milano, circa mille appartamenti sotto soglia. Cosa vuol dire gli appartamenti sotto soglia? Che sono inferiori a 25 metri quadri. Ok. Questi appartamenti non entrano nelle assegnazioni, nelle graduatorie, una famiglia non può poi andare. Perché è troppo piccolo. Ok. Un po' sono abitati, ai tempi metà erano abitati, metà no, quindi ne avevamo 500 da utilizzare. 500 da utilizzare, in particolare ce n'erano 50 di questi al quartiere Aller San Siro. Ok. Al quartiere Aller San Siro, quindi nella dinamica nostra di consulta periferie Milano, e quindi anche con i rapporti, con il mondo studentesco, università, eccetera. Allora, siccome il nostro problema è la rigenerazione socioabitativa, abbiamo detto, ma in questi 50 appartamenti che erano pronti, che cose ci potremmo mettere? Ci potremmo mettere tutta una serie di studenti, universitari, fuori sede del conservatorio. Quella era l'ipotesi. Allora, 50 appartamenti vogliono dire circa 75-100 studenti. Perché? Se non metti un numero significativo di persone nei quartieri, non cambia esattamente nulla. È come una goccia nella sabbia che dopo due secondi non la vedi più. È chiaro che 50-100 studenti che si sarebbero impegnati a fare che cosa? Avevamo già avviato anche con il conservatorio una serie di contatti. Si sarebbero messi a fare che cosa? A fare concerti nei cortili. Noi abbiamo decine di cortili. Un abitare generativo, quindi, appunto. Allora, esattamente. Uno prende, va e si fa carico di qualcosa di capace. Allora, tirandola un pochettino, il quartiere Alers-Sansiro sarebbe potuto diventare il quartiere dei musicisti. Bellissimo. Perché poi da cosa nasce cosa. Allora, siamo rimasti bloccati. L'ultimo finale... Ma questo qui, che cos'è? Un'invenzione strana? C'è stato il forum dell'abitare qualche mese fa, di Milano, dove la vice-sindaca della città di Bologna ha posto questo problema dei sottosoglia e sta dicendo che anche loro, siccome in Bologna ci sono parecchi universitari, stanno vedendo di utilizzarli per gli universitari. Allora, l'idea di dieci anni fa non era così peregrina, però... Chissà che magari... Nelle convulsioni milanesi, ma proprio perché non si guanta che ha le risorse e ha un'ottica periferica. Va bene, allora continuiamo con un po' di musica e poi ancora qualche minuto per salutare Walter e so che c'è qualcosa a dirci sui cori, ad esempio. Ma ne parliamo, fra pochissimo, dopo Bruno Mars. Bruno Mars, That's What I Like, 8.49 minuti, sempre qui in compagnia di Walter Cherubini, consulta, periferie, Milano. Dicevamo quindi tante soluzioni, ma tu volevi fare un collegamento anche con... Quindi tre flash. Uno, richiamando questa cosa di prima, dell'utilizzo delle risorse. Noi ci occupiamo di periferie, non ci occupiamo di musica, ma nel percorso di consulta periferie Milano è nata una vicenda musicale. Questa vicenda musicale, per esempio, si è tramutata in Cori Milano per le periferie, dove abbiamo la disponibilità di 40 cori amatoriali che si sono resi disponibili nel corso degli anni, e quindi ogni anno ne abbiamo circa 40, a cantare nelle periferie. Quindi, vengono nelle periferie a cantare, quindi non in un luogo, al conservatorio, a roba di genere. Che cosa vuol dire? Che hanno trovato questi 40 cori nel corso del tempo una opportunità per loro. Quindi guardiamola in maniera, tra virgolette, rovesciata. Guardando dal punto di vista periferico si riescono a fare parecchie cose. Ecco, un punto di ripartenza, ecco, 130 concerti nel 2018-19, nel 2023 ne abbiamo già fatti una trentina, e a fine anno arriveremo a 50 concerti. 50 concerti di cori, che probabilmente è l'iniziativa coristica più grossa che c'è a Milano. Ah sì, immagino. Anche se nessuno lo sa perché Milano è così. Di questo ne parleremo il mercoledì, 27 settembre, alle ore 17 fino alle 19, nel convegno dalle periferie per ripartire, dove faremo un focus con rappresentanti istituzionali, rappresentanti associativi e anche le proposte di consulta periferie Milano, che poi vi spiegheremo, ma in altre puntate entreremo più nel merito. Ah sì, per tanto, come dicevamo questa mattina, Lorenzo e Walter, tu Walter sarai qui tutti i martedì, quindi tutti i martedì siamo qui a parlare di periferie, cioè cerchiamo sempre, anzi, di dare grande spazio periferie. Ovviamente martedì supermente un incandimento sulle periferie. Ricordiamo anche che sta per ripartire su Milano News, Focus Periferie, che partirà con uno speciale, uno speciale sui 11 comuni annesse appunto nel 1923 al comune di Milano, quindi saranno 11 speciali, 11 esterni, sugli 11 comuni, appunto gli antichi comuni del milanese. E tra le cose che ci sono, ricordo anche il Milano Photo Festival, che sarà in corso fino al 31 di ottobre, 100 sedi, 140 mostre, quindi anche questo qui è una possibilità in più che abbiamo, disseminata in biblioteche, luoghi vari. Come si dice, diffusa, come si dice, ma diffusa in periferia. Diffusa sul territorio, ecco un'opportunità e anche uno speciale. Perché spesso ci sono queste manifestazioni diffuse, ma poi vedi proprio la riga, cioè sono 90-90 e non c'è la riga e non escono. Ci sono 10 in centro e una in periferia, solamente che la periferia è l'80% della città. Ecco, ne parlavamo prima proprio di questo, infatti, quindi ecco, invece in questo caso Photo Festival, dicevi, fino alla? Fino alla fine di ottobre. Ah, perfetto, insomma, un bel po', tu che sei un grandissimo fotografo, Lorenzo. In base a cosa lo dici questa cosa? Dalla faccia che hai, secondo me, sei bravo a fare le foto. Mi voglio fidare, secondo me sono un po' lombroso da questo punto di vista. Così. E allora, grazie mille a Walter Cherubini che conosciuta per il Ferri Milano. Noi ci sentiamo fa pochissimo per la chiusura, perché siamo arrivati alla fine, ma questa prima è Marco Mangroni con Elodie, pazza musica. Grazie mille a tutti.